Gran premio! Per questa ricetta mi sono voluta ispirare al mio cocktail classico preferito, il Manhattan. Ma andremo a utilizzare il premio, nuovo nato di casa Ramazzotti, un blend tra amaro Ramazzotti e grappa di nebbiolo riserva. Questa qui è un'antica ricetta che Usano Ramazzotti diede poi successivamente ai suoi figli. 60 ml, 20 ml di portobianco, 10 ml di crema di cacao e 2 gocce di bitter al cioccolato che volendo si può fare anche a casa utilizzando dell'angostura come base e delle fave di cacao in infusione. Consiglio sempre un'infusione a freddo per almeno 2-3 giorni. Gliaccio 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 Rimuovo Gliaccio 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 Gliaccio